Grazie, oggi per noi genovesi è un giorno difficile, un giorno dove ancora molte attività stanno spalando il fango, la terza volta in cinque anni su Genova città, la quinta volta sulla regione Liguria dal 2010. Oggi ci sono persone che hanno investito tutto in quelle attività e che rischiano di non poter aprire perché aspettano ancora i soldi del 2011, che lo Stato, la Regione e il Comune non è stato in grado di erogargli, mentre sappiamo bene che altre persone prendono 40 euro al giorno non appena sbarcano in questo Paese. Questa non è civiltà, questo è un suicidio di massa. In questi giorni in regione Liguria viviamo altre emergenze, le emergenze a rifiuti come a Napoli perché la sinistra non è stata in grado in questi anni di gestire la raccolta differenziata e così è intervenuta la magistratura, ha chiuso le discariche e ora c'è un problema sanitario a Genova, abbiamo i detriti dell'alluvione in strada e non abbiamo le discariche aperte, abbiamo un Presidente che dopo tutti i danni che ha fatto in Liguria non dà neanche le deroghe e allora noi chiediamo a gran voce ai Lombardi e so già che Maroni su questo ci sente molto bene di dare una mano perché il problema è che sulla protezione civile e sull'aiuto ai nostri fratelli bisogna essere tutti uniti ma bisogna ricordare loro, ricordare a noi genovesi che siamo una città con un cuore grande ma un cervello piccolo, che a marzo ci saranno delle elezioni e che non si sa potrà tornare a votare dopo 30 anni la stessa gente e non si potrà più tacere sul fatto che si sono intascati i soldi degli alluvionati, che non hanno fatto le opere, che non c'è un'opera fatta, che gli allarmi che hanno messo hanno suonato un'ora dopo che era andata via l'acqua dell'alluvione e che in questi giorni ci sono stati 22 sciacalli arrestati per le città che rubavano nei negozi, secondo voi ce n'era uno italiano? No! Allora questa gente che viene in questo paese, viene pagata con le nostre tasse e si fa beffa di noi delle nostre disgrazie? Non va bene questo Stato, l'unica emergenza che è funzionata è quella stata dei campi Rom che già qualche ora dopo l'alluvione erano tutti alloggiati a spese del comune nelle scuole, mentre abbiamo gente che ha fatto due giorni in macchina e ancora oggi cittadini cenovesi che hanno la casa con i sigilli dal 2011. Questo è uno scandalo, io ringrazio la Lega per quello che ha fatto a Roma, per le parole che ha detto Matteo sul nostro sindaco e per quello che farà e sta facendo Regione Lombardia per Genova. Devo però lanciare un appello da questa piazza e dire a tutti che in questo momento bisogna pensare alla propria gente, ai propri comuni e non agli interessi del proprio partito. Cacciamo via il Partito Democratico perché Renzi è corresponsabile del disastro del bisagno, quanto lo è burlando, quanto lo sono stati i nostri sindaci. Grazie.